Il Corecom Calabria, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e con il patrocinio di Agicom, annuncia l'apertura della fase di votazione per il premio speciale Lucia Abiuso, dedicato alla memoria della professoressa Abiuso, che con la sua attività ha lasciato un ricordo indelebile nel contesto dell'educazione scolastica calabrese. Questo evento riveste una straordinaria importanza poiché segna un nuovo ed innovativo approccio nella selezione dei vincitori attraverso l'uso dei social media. La manifestazione si propone di promuovere e sostenere progetti educativi diffusi su tutto il territorio nazionale, concentrandosi sulla media education e sulla lotta al cyberbullismo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla protezione degli utenti online. La votazione avverrà su tre piattaforme social, Facebook, Instagram e YouTube, e sarà aperta fino al 15 aprile. Gli utenti avranno l'opportunità di esprimere le proprie preferenze votando i video che incarnano i valori del premio dedicato alla compianta docente. I tre video con il maggior numero di preferenze complessive saranno proclamati vincitori nelle rispettive sessioni di Facebook, Instagram e YouTube. Il video più votato riceverà il titolo di vincitore assoluto della manifestazione e sarà promosso attraverso i canali ufficiali del Corecom Calabria. Saranno dichiarate vincitrici le opere che a decorrere dalla data di pubblicazione sulle pagine e canali social del Corecom Calabria e fino alle 12 del 15 aprile 2024 otterranno il maggior numero di preferenze complessive like o mi piace in senso assoluto e per categoria ha dichiarato a riguardo l'avvocato Michele Ripepi, che con il supporto dei dipendenti Alessandra Chianese, Rita Cotroneo, Massi Midone e Teresa Sandu in stretta collaborazione con il Comitato ha coordinato l'iter tecnico burocratico del premio. L'impegno di Scarpino, Mazza e Petrolo al fine di promuovere nelle nuove generazioni calabresi l'uso consapevole del web attraverso la media education. Il vice presidente Mario Mazza si dichiara soddisfatto per l'innovativo approccio del Corecom nell'utilizzo dei social media per la sessione dei vincitori stabilendo così un nuovo standard di eccellenza e coinvolgendo nella comunità. Il premio Lucia Biuso, ha chiosato Mario Mazza, intende accendere i riflettori nelle scuole calabresi al fine di porre un ulteriore argine al cyberbullismo e a tutti gli atti di tipo offensivo e prevaricatorio perpetrati attraverso l'utilizzo dei social e di internet.